Sono Riccardo Bertone, responsabile tecnico di Entrade SRL. Presentiamo alla Fiera InterSolar di Monaco di Baviera i nostri nuovi inverter IBR di monofase della serie H1 con potenze da 3 a 6 kW corredate della nuova scatola di collegamento I-Hub Box per la continua e l'alternata con tutti i cavi che passano nella parte verso la parete per nascondere ogni tipo di cavo. Sotto vediamo le nuove batterie a litio con bassa tensione da 5,12 kWh associabili fino a 4 unità e la novità sta nel poterle installare sia in verticale che in orizzontale. Vediamo poi qui a lato i nostri nuovi inverter della serie Trifase Ibrida H3 corredati sempre della nuova scatola di collegamento per la continua e l'alternata e le nuove batterie impilabili in alta tensione qui vediamo il modello con moduli da 2,5 kWh e più a destra moduli da 5 kWh. La novità sta nel fatto che ogni inverter ibrido con potenze che vanno da 6 a 30 kWh sono dotati di due ingressi separati quindi per poter installare due colonne separate di batterie anche di modelli differenti. Terminiamo con la presentazione delle nuove serie On Grid sempre Trifase con potenze da 30 a 125 kWh parallelabili fino a 10 unità. Vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie.